Trent'anni di scuola, ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila, inaugurazione dell'anno accademico, numeri in crescita per la scuola che è un punto di riferimento per la città e che crea anche un notevole indotto per l'Aquila. Formazione fondamentali e numeri significativi con uno sforzo didattico notevole fatto in collaborazione con l'Università dell'Aquila, con 22 docenti messi a disposizione, un rafforzamento del percorso ginnico sportivo. Anche una grande crescita perché quest'anno abbiamo superato il limite dei 5.000 allievi in formazione, che è un record storico, questo con l'intenzione poi di mettere in servizio fra tre anni ancora più ispettori e quindi garantire ancora più giustizia ed equità sociale. La componente ispettori è la componente più numerosa, sono 37.000 gli ispettori nella Guardia di Finanza su 60.000 finanzieri, quindi capite bene che essendo anche poi i militari chiamati a operare sul campo rappresentano una risorsa strategica, non solo per la Guardia di Finanza ma anche direi per tutte le istituzioni. Presente come ospite e rappresentanza del Governo è sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Lucia Albano, che è abruzzese. Sono particolarmente orgogliosa e felice di essere qui oggi, 30 anni della scuola, 250 anni della Guardia di Finanza, questo è un anno particolarmente importante. Vedo che il legame che c'è tra la scuola dell'Aquila, la Guardia di Finanza e la città dell'Aquila, è un legame profondo, è un legame che ci fa ricordare quanto le forze dell'ordine siano fondamentali e importanti per la nostra società e per la nostra vita civile.